Il Torino ha deciso che la finale di andata di Coppa Italia della primavera si giocherà al Filadelfia, come mai questa scelta? Perché penso che sia la cosa più naturale possibile per il mondo Granata, dopo più di 25 anni il Torino ha la possibilità di rigiocare nel suo stadio, nella sua casa, dove precedentemente ha visto i grandissimi campioni, il grande Torino, ha visto tantissime generazioni di giovani vincere tanto e portare il lustro alla sua età. E credo quindi che la scelta non poteva essere che qui, anche perché, parliamoci chiaramente, il Torino è una delle poche società in Italia, se non l'unica, ad avere un impianto talmente bello come il Filadelfia in centro città. Sarà anche bello perché sarà uno stadio gremito di persone, quindi avere tanti tifosi per i nostri ragazzi. Questo ce l'auguriamo, si giocherà anche di sera, quindi può diventare anche un'atmosfera magica e speriamo che porti anche bene. E sarà anche una conseguenza di quello che è stato il lavoro del settore giovanile del Torino in questi anni, un po' la ciliegina sulla torta dei tanti successi. Ce lo auguriamo anche questo, perché comunque il Torino ha sempre investito nel settore giovanile anche in momenti meno felici di questo. E questo può essere veramente, come dici tu, una ciliegina che vogliamo mangiare.